E-Evelopment è un progetto Erasmus totalmente finanziato dall'Unione Europea che comprende sei scuole superiori di sei paesi europei diversi e grazie a questi viaggi appunto nelle scuole inclusi in questo progetto abbiamo potuto imparare le nuove tecnologie e gli strumenti necessari per raggiungere l'obiettivo finale di questo progetto che è la realizzazione di due ebook questi due ebook riguardano uno la crisi dei rifugiati che sta colpendo in quest'ultimo periodo l'Europa il secondo ebook invece riguarda la didattica digitale cioè l'utilizzo delle nuove tecnologie sia da parte dei professori che da parte degli studenti in modo efficiente per l'apprendimento delle nostre conoscenze abbiamo diviso l'ebook in diverse unità utilizzando le nuove tecnologie appunto come le app oppure i programmi per creare presentazioni Europea Neuros è un progetto formato da cinque scuole superiori di cinque stati diversi lo scopo di questo progetto è formare i giovani imprenditori attraverso interviste con imprenditori sia italiani che stranieri e tramite workshop insieme ai nostri colleghi europei abbiamo individuato sei problemi attuali come ad esempio la preservazione dei villaggi quasi disabitati e oppure il problema degli immigrati il prossimo marzo 2017 si terrà l'ultimo incontro in portogallo dal 5 all'11 dove noi presenteremo i nostri prototipi che abbiamo creato sempre riguardo questi problemi qui e li presenteremo a possibili finanziatori privati che potranno portare avanti questo progetto Grazie a tutti